Io ho incontrato il sottosegretario Armando Siri lunedì sera, ho avuto con lui in tarda sera un lungo colloquio, un paio d'ore di colloquio, nel corso del quale egli si è reso disponibile a fornirmi alcuni dettagli sulla vicenda giuridica che lo vede coinvolto. Questo incontro l'avevo preannunciato, l'ho ritenuto necessario anche al fine di prendere una decisione ponderata e mi è sembrato doveroso innanzitutto confrontarmi con il diretto interessato, ascoltare le sue ragioni. Vengo alla decisione. Ho sempre rivendicato per questo Governo un alto tasso di etica pubblica che significa assicurare che la condotta dei singoli membri del Governo sia sempre orientata al perseguimento del bene pubblico con piena trasparenza di operato. Nel caso di specie il sottosegretario Siri si è prestato a raccogliere l'istanza di un imprenditore che chiedeva l'approvazione di una norma che avrebbe favorito, per così dire retroattivamente, alcune sue attività imprenditoriali che si erano già concluse. In questo caso la norma non avrebbe introdotto incentivi per attività imprenditoriali future. Voglio essere ancora più caro. Non avrebbe offerto rispetto agli imprenditori che si accingono a svolgere attività una parità di chance. Avrebbe offerto invece vantaggi retroattivi, una sorta di sanatoria, per gli imprenditori che si fossero ritrovati nella condizione di avere svolto in passato alcune determinate attività. Insomma, per dirle in breve, la norma non era generale rastratta e non disponeva per il futuro. Ecco, per queste ragioni io ho valutato la necessità, l'opportunità di dimissioni da parte del segretario Siri. Ho letto una sua dichiarazione che è pervenuta poco fa, in cui lui preannuncia che si dimetterà entro 15 giorni, dal momento in cui incontrerà e verrà ascoltato dai magistrati. Però io credo che la vicenda giudiziaria e il procedimento giudiziario avrà un soccorso. La vicenda politica ha delle altre connotazioni che ho riferito in premessa. Noi dobbiamo essere credibili e responsabili in questi passaggi fondamentali. Le dimissioni o si danno o non si danno. Dimissioni future che vengono ricollegate a iniziative, collegate poi specificamente ad attività giurisdizionali, ad attività dei giudici, non credo abbiano molto senso. Questo lo dobbiamo sia per la chiarezza delle azioni di governo, trasparenza delle azioni di governo, che per rispetto delle istituzioni. Aggiungo, peraltro, che come esperienza di avvocato, è chiaro che eventuali dichiarazioni spontanee che l'interessato potrà rendere, ragionevolmente non potranno segnare una svolta rispetto a questa fase preliminare di indagini. Ecco perché per questa ragione porrò, assumendomene tutta la responsabilità politica, all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri, la mia proposta di revoca della nomina sottosegretato del senatore Siri. Questa proposta di revoca, attenzione, non comporta il fatto che io mi voglia ergere a giudice del caso. Questo compito spetta ai magistrati. Le mie valutazioni sono più ampiamente politiche e sono ricollegate alla responsabilità che mi spettano quale massima autorità di governo. attenzione ancora, questo non vuol dire che Armando Siri sia colpevole per il fatto di corruzione di cui è attualmente indagato.